Gigi Buffon Gigi Buffon premiato, con super figuraccia, Caterine Zeta Jones irriconoscibile e gli altri, ai FIFA Awards succede di tutto Caterine Zeta Jones, Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo con figlio e fidanzata, Daniel Vesco la sexy moglie Joanna Sanz Gigi Buffon premiato e impacciato, soprattutto con l'inglese, Caterine Zeta Jones irriconoscibile e una carrellata di Vans, il Gala del Calcio al Palladium Teatre di Londra e un grande show barra verticale Caterine e di cera meno la neo 48enne moglie di Michael Douglas, ai FIFA Awards in veste di madrina, è in abito sexy, scelto nel suo immenso guardaroba, corpetto di pizzo trasparente e maxi spacco Ma, complice un trucco troppo pesante, sembra una statua di cera Campioni e Vags in dolce attesa, Cristiano Ronaldo è l'asso piglia tutto dei FIFA Awards, l'attaccante del Real Madrid trionfa per il secondo anno consecutivo, davanti a Neymar e Messi, e sfila con la fidanzata Georgina Rodriguez incinta il figlio Cristiano Ronaldo Jr. Anche Lionel Messi è con la moglie Antonella Rocuzzi incinta, la stella del Barcellona e la compagna di tutta la sua vita sono in attesa del terzo figlio Tra gli altri, c'è il giocatore ex Juventus, ora in forze al Paris Saint Germain, Daniel Ves con la sexy Joanna Sons, sposini dal luglio L'annuncio social del terzo figlio in arrivo per Messi clicca per ingrandire Ilaria non c'è, Gigi Buffon non è in coppia, Ilaria d'amico è stata paparazzata nel frattempo a Milano, intenta a fare shopping, ma è felice, è stato premiato come miglior portiere dell'anno E' un onore vincere il premio alla mia età, ha detto emozionato il capitano bianconero Sono felice di essere qua e devo ringraziare la Juve e i miei compagni che lo hanno reso possibile Spero di migliorare ancora per vincere in Europa e chiudere la mia carriera con una grande vittoria Il problema è che lo dice in inglese, ed è un vero disastro